...li ha colpiti. Mi piacciono molte cose, ma la morte è ciò che mi ispira. Ecco il campione. Sono la cacciatrice mandata dagli dèi. L'atterraggio in quest'area ha un'alta probabilità di successo. Non la prendo. Preparatevi ad una morte certa! Bene, vado! Dovremmo condurre una ricerca proprio qui. Ok. Sto esplorando laggiù. Ti apro per la gamba. Qui c'è uno scudo corporeo. Livello 1. Attenzione, prima vittima. Bene, facciamolo! Round 1. Inizio controlla rovescia anello. Il prossimo anello è abbastanza lontano. Qui c'è un R99. Qui c'è una L-Star. Potrebbe farmi comodo. Dovremmo condurre una ricerca proprio qui. Piazzo trappola gas. Ok. 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 Trappola gas è piazzata. Sto usando il rampino. Qui c'è uno stabilizzatore canna. Livello 2. Direi di... Tutto mio! C'è un nuovo leader uccisioni. Per me è solo un risetto. Prendo nota della tua riconoscenza. Qui c'è una capsula rifornimenti. Qui c'è un R99. L'anello si chiude. Potrebbe farmi comodo. Qui c'è un OPAP. Selettore di fuoco. Abbiamo un nuovo leader uccisioni. C'è un nuovo leader uccisioni. Per me è solo un altro insetto. Livello 2. Leader uccisioni eliminato. Mi serve un... Mi serve un caricatore leggero e steso. Mi serve un caricatore leggero e steso. Qui c'è un caricatore pesante e steso. Livello 1. Ne ho bisogno. Attenzione, anello in chiusura. Qui c'è un scudo corporeo. Quel posto potrebbe nascondere un bel bottino. Qui ci sono muniti. Qui c'è un P-skipper. Mi serve un OPAP. Selettore di fuoco. Qui c'è un'ottica. Distanza va avvicinata. Credo che non siamo i primi ad aver attraversato. Qui c'è un R301. Qui c'è un otturatore per shotgun. Livello 3. Capsula assistenza in arrivo. Adoro le sorprese. Vedete la mappa? Siamo tutti. Grazie. Qui c'è un otturatore per shotgun. Livello 3. Mi serve un OPAP. Mi serve un calcio standard. Zipline rilasciata. Qui c'è uno stabilizzatore canna. Livello 2. Qui c'è un OPAP. Selettore di fuoco. Potrebbe farmi comodo. Sto cercando bottino qui. Qui ci sono munizioni pesanti. Grazie. Qui c'è uno stabilizzatore. In questo posto c'è stata attività. Scansione prossimo anello. Controllate la minimap. Uso il rampino. Bersaglio laggiù. Ho capito. Soggetto danneggiato. Laggiù c'è un portale. Ostile laggiù. Ehi, mi stanno sparando. Ricarico gli scusi. Ottimo. Soggetto danneggiato. Pioggia di fuoco in arrivo. Ha 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 ha. Soggetto danneggiato. Più. Avete. Avete. Soggetto danneggiato. Sì. 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 era l'ultimo, si è arreso per sfinimento. I nemici mi stanno sparando? Ce l'abbiamo fatta fratelli, squadra eliminata. Bel lavoro. Ricarico. Qui c'è uno scudo corporeo, livello 3. Ricarica scudi in corso. Ricarica scudi. Un minuto prima che l'anello si chiuda. Abbiamo tempo. Versaglio raggiù! Trappola gas piazzata. Trappola gas piazzata. Un altro ha eliminato. Sto superando dei danni. Sto ricaricando? Sto ricaricando questa posizione. Sto ricaricando gli scudi. Sto ricaricando. Riccardo, abbiamo fatto una posizione. La squadra è eliminata. Confesso. Rilascio una maniata indipendente. Trappola gas piazzata. Dieci secondi. Proprio qui vicino. Facile. Mi servono munizioni pesanti. Manello si sta muovendo. Diamoci una mossa. Qui ci sono munizioni pesanti. Qui c'è un caricatore leggero e steso. Livello 3. C'è comunizioni per cecchino. Grazie. Non c'è problema, baby. Capsula assistenza in arrivo. Capsula assistenza. Adoro queste cose. Nemico individuato. Ho capito. Tratteneti il respiro. Mi stanno... Eccone uno. Ricarico. Variabile indipendente aggiunta. La mia visione è chiara. Nemico fuori gioco. Ricarico gli scudi. Ho abbattuto un soggetto. Sto ricaricando gli scudi. Sto ricaricando. Abbiamo eliminato tutta la squadra. Sto ricaricando. Datevi un secondo. Variabile indipendente aggiunta. Postile individuato. Sto ricaricando gli scudi. Mi sto riparando. Buon soggetto in vista. Ok. Fuoco. Controlliamo da questa parte. Allora... Sto ricaricando. C'è la parte. Sto ricarico. Sto ricaricando. Un altro eliminato, baby. Finiamoli tutti. Un altro eliminato, baby. Siamo fortunati. Siamo già dentro l'anello. Siate i campioni Apex.